Io sono Alessio Zani, detto El Cubano. Detto? El Cubano. Comincia a scappare che c'è la signora... Ci manchi solo di... Allora, caro El Cubano, mi dica, lei perché è chiamato El Cubano? Per le mie doti di ballerino. Ah! Sud americano, per far rima. Ci vuole far vedere? Esatto. E chi te si perde? Però, cortesemente, o una rumba cubana... Che vuole? Rumba cubana. Questa marbara è qua. Ce l'abbiamo una rumba cubana? Una salsa. Una salsa qualunque, anche calcio. C'è un motore. Bene, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo.